Musica Ben trovati ad una nuova settimana in compagnia dell'agenda di Telebelluno. Vediamo qualche proposta per martedì 19 febbraio e per i giorni a seguire. Musica Cominciamo parlando della mostra Belluno, una città, la mostra multimediale che viene ospitata al Palazzo Crepadona di Belluno a cura dell'archivio storico del Comune di Belluno. Questa mostra sarà fruibile fino al 28 febbraio prossimo e appunto l'ingresso è libero. Parliamo di un'altra attività che si svolgerà adesso nella giornata di sabato 23 febbraio. Musica Sabato 23 febbraio la compagnia teatrale L'Allegra Compagnia metterà in scena la commedia Leonardo, il genio dei geni. L'appuntamento è quindi al Teatro San Gaetano a partire dalle ore 20 e 45 per questa iniziativa che rientra nel carellone delle tante attività promosse in occasione del Carnevale dalla Proloco Pieve Castionese. Il clou della manifestazione a Castionese avrà poi domenica 24 febbraio con dalle 10 animazione e giochi per bambini con il mago bronze, dalle 11.30 la sfilata delle mascherine dei bambini, alle 14.15 la grande sfilata dei carri allegorici delle frazioni e per tutto il giorno ci saranno fornitissimi chioschi gastronomici alla piana delle feste. L'intrattenimento vario sarà poi accompagnato da musica, giochi, trucca bimbi e quant'altro e tanto divertimento in compagnia appunto dei volontari della Proloco Pieve Castionese per questo Carnevale 2019. Andiamo avanti con l'attività e veniamo appunto a domenica 24 febbraio. Parliamo adesso di un'altra iniziativa. Il Museo Etnografico della provincia di Belluno e del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi ripropone il corso di potatura delle rose antiche che sarà tenuto nuovamente da Davide Dallalibera, titolare del vivaio Nova Spina e ibridatore di rose. Il corso si terrà nella giornata di domenica 24 febbraio, partire dalle ore 9 e il programma prevede un'introduzione teorica della storia delle rose antiche e della loro evoluzione. Le principali varietà di rose antiche, la tipologia, le varie tipologie di potatura adatte alle diverse varietà di portamento. Seguirà poi la parte pratica con prove di potatura sugli esemplari del rosetto. Per iscriversi bisogna contattare l'indirizzo mail museusravellachiocciolaprovincia.belluno.it entro il 20 febbraio. E noi abbiamo concluso così anche per oggi il nostro appuntamento di Tipi di Agenda. Ci rivediamo domani.